Tolto il capitolo Murri, parlando quindi dello youtuber migliore d'Italia che esista Cioè io Questo youtuber ha fatto tanta gavetta, tanta gavetta E voi non sapete, o meglio i più temerari sapranno, perché c'è chi mi segue da una vita Che io ai tempi ho fatto un film che faceva cagare No, non sto parlando di Game Terra Sto parlando di un altro film Andavo alle medie, c'era questa attività che si chiamava Fare Cinema Neanche cinema, Fare Cinema Il film si chiama, vive, quattro terzi tra l'altro Vivere l'amore, che meraviglia Sì, aspetta di crescere, che poi sono Cazzi Non vedo l'aria, ecco, io sono in mezzo Eccolo qua Che sorriso, quel maledetto sorriso Scusa, sai dove è Alessio? L'ho visto nel bagno delle ragazze Ah sì, e io come ci entro al vento? Semplice, alcuni si mettono la parrucca, altri la connellina Gabriele Zac Efron Beh, uno dei miei migliori amici, Gabri Che cazzo Non ti posso guardare A te potremmo essere questo Questo, questo è il, questo è il travestimento per entrare nel bagno delle ragazze, scusatemi Eccolo Già il fiore sta morendo e non ho fatto niente Che capelli mia madre mi faceva Parliamone Gran transizione, complimenti Ma fatelo partire almeno da un po' più lontano Si vede lontano un chilometro Marco, Marco Parti da lontano, da fuori No, si vede che sei fermo e sta aspettando il via Si vede? Vabbè Ma guarda che, guarda che pantano Ma come mi vesti Come mi vestivo? Cos'è? Cos'è? Cos'è sta roba? Cos'è? Dici, dici E tagliati ste unghie E tagliati ste unghie E tagliati ste unghie Dovito con fiore Possega il dono della profezia Davvero non capisco perché ce l'hai con me Com'è che inghie in therapy sono peggiorate? Era meglio qua Roba di K Tua sorella non mi interessa Dopotutto ben cinque anni in più di lei Adesso cinque anni Possono non sembrare Ma vedrai fra qualche tempo Pallese che io stai guardando fuori Che aspetto il tipo che mi dice La battuta, la battuta Ecco Quando lei avrà 95 anni Io ne avrò ben 100 Ma poi guarda Cioè vi prego ragazzi Allora Io avevo provato a fare sta roba Che erano Era un precursore di Cristiano Ronaldo Cioè praticamente mi ero fatto Le cose Le capelli Cioè tipo mi ero rasato qua Può non esistere sto video Vi prego Quando lei avrà 95 anni Io ne avrò ben 100 Ma che calcolo Da trogloditi Cosa vuol dire? Quindi io non posso stare Con una 2000 adesso Che transizione Che non esiste No Gabri No 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 Non mi fare Stai fermo Ma come cazzo facevi Ad avere i capelli Cioè io veramente No aspetta Mo ti chiamo La D Eccola Ti posso far vedere una cosa Che ti svolta la giornata Posso Vai Vai Ma c'è una reaction a Vabbè tu sai cosa L'hai trovato il film? L'ho trovato E' di Zac Efron uguale E' arrivato prima E' arrivato prima E' di Zac Efron E' arrivato Esatto E' Zac Efron E' ho copiato te Ciao 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 Credo che io e te Ci stiamo avvicinando Quel pezzo di Vetoe Il brano Era di Brahms Bravo Sei un tipo insulso No Uno smidollato No Un tipo debole Uomini deboli Destini deboli Ti ha davvero fatto a pezzi eh Mi ha smontato pezzo per pezzo Verso per verso Parola per parola Che swag che è di Gabri Che swag Porca vacca Ciao ciao Penso che sia suonata la campanella Devo andare nel laboratorio di arte Vi prego Mandiamo questo video nello spazio E facciamo si che sia l'unica Presenza che testimonia La vita sulla terra Voglio vedere gli alieni cosa pensano Via E' finito E' finito così E' finito così Che mi Cosa mi Che Dov'è la trama Dov'è Perché abbiamo buttato un anno di laboratorio Per fare questo Cosa Cosa vedo No 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 Non esiste Allora ragazzi Cioè scusa Io Io Mi permetto Questa documentazione Non è esistita Siamo cambiati tanto negli anni Adesso vi faccio vedere Faccio una precisazione Questo era il ragazzo Che è Il bambino Che era nella scena mia Quello che si appoggiava alla mia schiena Scrive Prima o poi tiro fuori i vecchi film Che abbiamo girato alle medie Se ti ricordi Purtroppo mi ricordo Pubblica Umiliazione Stai tranquillo Ci pensa il sottoscritto Questa Eccoci Questo so io Questo è l'altra D E questo è Gabri Che comunque i capelli anche qua Non è che è fantastico ragazzi Un film incredibile Una merda Vabbè ragazzi Questo video purtroppo finisce qua Peccato eh Perché avrei voluto continuare tutto il giorno Purtroppo altre cose migliori da fare Tipo farmi frantumare le palle Da una pressa idraulica Spero che vi sia piaciuto Iscrivetevi al canale Vivere l'amore Che meraviglia Non è vero L'amore è una merda Non è vero È una meraviglia Dipende da che punto lo si guarda Ciao